guanto in nomex da volo colore tan la parte superiore è tutta in tessuto di nomex fabbricato in pakistan la parte inferiore è vera pelle il nomex è della dupont quindi di buona qualità la pelle appare leggermente rigida ma va trattata con cromatina o lucido a scarpe neutro per renderla morbida si infila molto facilmente quanto molto morbido molto sensibile ottime cuciture buone rifiniture resistente solido le taglie sono normali questa taglia è una m veste molto anche un po abbondante elasticizzato cucitura elastica anche sul polsino per stringerlo notare le cuciture ben rifinite ok ok ok